Siamo arrivati alla lettera S Qual è l'animale scomparso che inizia con la lettera S? Snake! What a shame! Forza, ora dobbiamo salire the stairs se vogliamo raggiungere the slide Oh oh, questa sembra proprio una volpe ladruncola Tu conosci una volpe ladruncola il cui nome inizia per S? Swiper! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 È troppo tardi, mi spiace Ho appena gettato the stairs dietro qualcosa che inizia per S Adesso non li ritroverete mai più Oh no! Swiper ha rubato the stairs e adesso noi non possiamo più raggiungere the slide Non ti preoccupare, armadillo Ora ritroveremo the stairs Giusto, Dora? Giusto, Boots E tu? Ci aiuterai a ritrovare all the stairs? Fantastico! Allora cerchiamo the stairs Swiper ha detto di aver gettato the stairs dietro qualcosa che inizia con la lettera S Io vedo a ball, wheelbarrow, sled e flower Quale di queste cose inizia con la S? Sled! Giusto! E guardate! Ecco lì the stairs! Ora contiamo per assicurarci di aver trovato tutti e sette the stairs Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Sette stairs Attimo lavoro E adesso dove andiamo? Sì